Diventare global imprenditori significa ripensare alla tua attività d'impresa, come ad un business mondiale e non nazionale, e ripensare a te stesso come ad un cittadino del mondo, e non invece come un cittadino costretto a subire le restrizioni imposte da una nazione. Questo significa attingere ad una marea di nuove opportunità, tra cui le seguenti. 1. Essere in grado di trovare clienti provenienti da tutto il mondo ed avere una qualità di clienti superiore. 2. Ridurre le tasse al minimo, delocalizzando la tua impresa o residenza fiscale, ed aumentare i guadagni esponenzialmente. 3. Essere in grado di assumere lavoratori ovunque situati nel mondo, in grado di assicurare una qualità altissima, ma ad un costo che rappresenta una minima frazione rispetto a quello che pagheresti in altri paesi. 4. Scegliere le migliori opportunità di investimento al mondo, di modo tale da far fruttare i tuoi risparmi in maniera esponenziale. 5. Risparmiare sui tuoi costi di vita, e rinvestire quei soldi per ottenere ulteriori guadagni. 6. Evitare la burocrazia ed i limiti imposti ai residenti di un paese, ma non ai residenti di altri, risparmiando tempo, risparmiando enormi costi di compliance, ed attingendo ad opportunità migliori. Contattaci ora per una consulenza specifica. Trovi i recapiti in descrizione. D'altronde, prima di procedere è sempre fondamentale rivolgersi ad un esperto avvocato tributarista internazionale, che possa tenere conto della tua specifica situazione, aiutarti a prendere una decisione, e che possa effettuare tutte le verifiche necessarie. Ricordati, infine, che le leggi cambiano in continuazione, dunque è indispensabile prendere in considerazione la legge in vigore nel momento in cui decidi di delocalizzare o trasferirti.